Il comando provinciale di Chieti ha concluso un'attività ispettiva nell'ambito del contrasto all'economia sommersa che ha permesso di individuare 227 lavoratori irregolarmente impiegati, dei quali 61 completamente in nero, in un grande magazzino operante nella vendita di un'ampia gamma di prodotti, tra i quali articoli di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli e articoli sportivi. Nello specifico le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria nel corso di un controllo fiscale alla predetta società amministrata da un soggetto di nazionalità cinese hanno constatato che dal 2021 in maniera sistematica aveva impiegato i lavoratori dipendenti in parziale o totale evasione contributiva condotte che hanno dato luogo a violazioni della legislazione in materia di lavoro. In particolare anche grazie all'intervento di un militare specializzato che ha il compito di dare supporto tecnico alle investigazioni per la raccolta di elementi di prova su sistemi informatici, A seguito dell'ispezione operata negli uffici amministrativi dell'azienda è stata rivenuta copiosa documentazione a comprova dell'esistenza di una gestione parallela nella quale erano riportate operazioni non contabilizzate. Tra queste le retribuzioni dei dipendenti che anche se formalmente assunti con contratti part-time venivano impiegati a tempo pieno fino a 12 ore al giorno per 6 giorni settimanali. Questo è emerso dall'estrapolazione di tutti i dati e documenti ed è riconducibile a un sistema collaudato finalizzato all'elusione degli obblighi fiscali e contributivi. Ciò avvalorato da numerosi dipendenti ed ex dipendenti che vincendo il vincolo di subordinazione legato alla regola del prendere o lasciare dettato dall'impresa hanno reso dichiarazioni confermative delle ricostruzioni operate dai militari. E' stata quindi avviata la procedura della diffida, la regolarizzazione della posizione dei lavoratori e al pagamento della maxi-sanzione calcolata ricostruendo le giornate di effettiva presenza al lavoro dei dipendenti, circa 180.000 euro più oltre 40.000 euro riferibili a diverse ulteriori regolarità riscontrate.